Capitolo settimo di Le storie del castello di Trezza di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox di dominio pubblico Letto da Francesca Roma Capitolo settimo Don Garzia d'Arvelo era diventato inaspettatamente a cinquant'anni signore dei numerosi feudi che dipendevano dalla baronia di Trezza. Il barone e suo nipote era stato trovato in un burrone lungo stecchito, un bel dì o una brutta notte che era andato a caccia di non so qual selvaggina. Il cavaliere d'Arvelo, ora che era barone, fece impiccare preliminarmente due o tre vassalli i quali avevano la disgrazia di possedere bella selvaggina in casa e la triste riputazione di tenere all'onore come altrettanti gentiluomini. Poi era montato a cavallo e siccome sospettavasi anche che il signore di Grevia avesse saldato in quel tal modo spicciativo alcuni vecchi conti di famiglia, era andato ad aspettarlo ad un certo crocicchio e senza stare a sofisticare sulla probabilità del si dice aveva messo il saldo alla partita. Anche delle sue scorrerie, che un bel po' del predone gli era rimasto con le vecchie abitudini di cavalier di ventura. Tutti coloro che nel requiem ordinato in suffragio del giovine barone avevano innestato sotto voce certi mottetti che non erano nella liturgia, ebbero a pentirsene, e dovettero ripetere senza che sapessero di storia il detto della vecchia di Nerone. Lupo per lupo il vecchio che succedeva al giovane mostrava tali ganasce e tale appetito che a paragone il lupacchiotto morto diventava un agnellino. Il cavaliere cadetto di grande famiglia era stato tanto tempo ad aguzzarsi le zanne e ad ustolare attorno a tutto quel ben di Dio in cui sguazzava il nipote, capo della casa e suo signore padrone, che, malgrado le scorrerie di tutti i generi sulle quali il fratello e posce il nipote avevano chiuso un occhio, si poteva dire di lui che fosse affamato da cinquant'anni. Sicché era naturalissimo che allorquando pote darsi una buona satolla di tutti gli intingoli del potere più sfrenato, lo fece da ghiottone, il quale abbia stomaco di struzzo. Del resto il re, suo signore dopo Dio, era lontano, e i Darvelo erano d'illustre famiglia, grandi di Spagna, di quelli che non si sberrettano né dinanzi al re, né dinanzi a Dio, titolari di diverse cariche a corte, baroni ricchi e potenti, un po' alleati della mano sinistra coi barbareschi, di quei mastini insomma che andavano lisciati pel verso del pelo. Don Garzia andò a corte, si batté con un gentiluomo che osò ridere dei suoi baffi irzuti e dei suoi galloni consunti, Egli mise tre pollici di ferro fra le costole, prestò il suo omaggio di sudditanza al re, il quale lo invitò alla sua tavola, e fra il caciocavallo e i fichi secchi gli disse, Che poiché la famiglia d'Arvelo non avea altri successori, il suo buon piacere era che Don Garzia sposasse una damigella castilla, la quale attendeva marito nel monastero di Montevergine. Don Garzia, buon suddito e buon capo di grande famiglia, sposò la damigella senza farselo dire due volte, e senza vederla una volta sola prima di condurla all'altare, Ma dopo aver ben guardato nelle pergamene della famiglia della sposa e nei quattro quarti del suo blasone, la mise in una lettiga nuova, con buona mano d'uomini d'arme, e di cagnotti davanti, ai lati e dietro, montò il suo cavallo pugliese e salamenò attrezza. La sera dell'arrivo degli sposi si fecero gran luminari al castello, nel villaggio e nei dintorni, la campana della chiesuola suonò sino a creparne, si ballò tutta la notte sulla spiaggia, e del vino del bosco e di terre forti delle cantine del barone ne beve persino il mare. Non di meno, allorché la sposa fu entrata in quella cameraccia, scura e triste, in fondo all'alcova immensa dalla quale ergevasi come un catafalco il talamo nuziale, non poté vincere un senso di ripugnanza, e quasi di paura, e domandò al marito, Come va, mio signore, che, essendo voi tanto ricco, avete una sì brutta cameraccia? Don Garzia, il quale ricordavasi di dover essere galante per il quarto d'ora, rispose, La camera sarà bella ora che ci sarete voi, madonna. Però, la prima volta che donna violante si svegliò in quella brutta cameraccia, e al fianco di quel brutto sire, dovette essere un gran brutto svegliarsi. Ma ella era damigella di buona famiglia, ben educata all'obbedienza passiva, fiera soltanto del nome della sua casa, e di quello che l'era stato dato in tutela. Era stata strappata bruscamente alla calma del suo convento, ai tranquilli diletti, ai sogni vagamente turbati della sua giovinezza, ad un romanzetto appena abbozzato, ed era stata gettata, Ella, che aveva sangue di re nelle vene, nell'alcova di quel marrano, cui per caso era caduto in capo un berretto di barone. Ella avea accettato quel marrano, perché il re, il capo della sua famiglia, le leggi della sua casta, glielo imponevano, e avea soffocato la sua ripugnanza, allorché la mano nera e callosa di quel vecchio s'era posata sulle sue spalle bianche e superbe, perché era suo marito. Dolce e gentile com'era, cercava a furia di dolci e gentili maniere raddolcire quel vecchio lupo che le ringhiava accanto, e le mostrava i denti aguzzi allorché voleva sembrare amabile. Però quello non era tal lupo cui l'acqua santa del matrimonio potesse far cambiare di pelo, e quanto avvizi avea tutti quelli che si incontrano sulla strada di un soldato di ventura, dietro le insegne delle bettole. Per giunta e per disgrazia, donna Violante, dopo due anni di matrimonio, non solo non avea messo al mondo il dito mignolo d'un baroncino, ma non avea né mell'aria di darsene per intesa, e d'aver capito il motivo per cui don Garzia s'era tolto in casa la noia e la spesa di una moglie. Quella moglie, delicata, linfatica, con le mani bianche, che gli parlava voce bassa, che arrossiva le sue canzonette, allegre e alle sue esclamazioni gioviali, che scappava spaventata, allorché il sire era di buon umore, che non gli sapeva condire i suoi intingoli prediletti, e che non era stata buona nemmeno a dargli un successore, gli faceva l'effetto di un ninnolo di lusso, da tenersi sotto chiave come i diamanti di famiglia. Perciò, lungi di smettere le sue abitudini di lanzichenecco, ci s'era lasciata andare allegramente, senza prendersi nemmeno la pena di nasconderlo alla moglie, la quale era così timida e tremava talmente, allorché ei si metteva in collera, alla meno un'osservazione, da sembrargli stupida. Cacciava, beveva, correva pei tetti e scavalcava le siepi, e quando ritornava ubriaco e di cattivo umore, guai alle mosche che si permettevano di ronzare. Un'ultima scappata di Don Garzia, però, avea fatto tale scandalo che andò a colpire nel vivo quella vittima rassegnata. La fierezza di Patrizia, l'amor proprio di donna, la gelosia di moglie, si ribellarono al fine in donna violante, e le diedero per la prima volta un'energia fittizia. — Mio signore, disse ella con voce tremante, ma senza chinare gli occhi dinanzi al brusco cipiglio del marito, rimandatemi al convento dal quale m'avete tolta, poiché sono tanto scaduta dalla vostra stima. — Che vuol dir ciò, borbottò Don Garzia, e chi vi ha detto di esser scaduta? — Come va, dunque, che vi rispettiate così poco voi stesso da scender sino alla mena? Il barone stava per attaccare una mezza dozzina di quei sacrati che facevano tremare il castello sino dalle fondamenta, ma si contentò di sghignazzar forte. — Da quando in qua, madonna, al castello di Trezza le galline si permettono di alzare la cresta? — Badate a covarmi dei baroni, piuttosto, com'è vostro dovere, e lasciatemi cantar mattutino e con pieta secondo il mio buon piacere. La baronessa, l'indomani, si era levata pallida e sofferente, ma con gli occhi luccicanti d'un insolito splendore. Sembrava rassegnata, ma di una rassegnazione cupa, mettita bonda, lampeggiante di tratto in tratto la ribellione e la vendetta. Quel marito istesso così rozzo, così brutale, fu una volta sorpreso e impensierito dell'aria, indefinibile d'insolita, di quella donna, che possava il capo sul suo medesimo guanciale, quantunque un sol muscolo di lei non si movesse, e volle mostrarle che le avea perdonato la sua velleità di resistenza con un bacio avvinazzato. Ella non lo respinse, non si mosse, rimase con gli occhi chiusi, le labbra scolorite e serrate, le guance pallide e ombreggiate dalla lunga frangia delle sue ciglia. Soltanto una lacrima ardente luccicò un momento fra quelle ciglia, e scese lenta, lenta. Fine del settimo capitolo Di Giovanni Verga